Diciamo che questi sono sempre quei fondi che sia in questo contesto stato ma anche con tante altre iniziative che la nostra amministrazione ha messo in essere nel corso di quest'anno per dare un aiuto alle famiglie maggiormente colpite dalla problematica Covid. Quindi soprattutto ricordiamo anche quell'arco temporaneo dei lockdown con anche famiglie ma anche autonomi, perché ricordiamo che queste iniziative sono anche per gli autonomi che dovettero chiudere perché c'era normativa del lockdown. Oggi ancora un ulteriore aiuto che diamo sono risorse importanti perché 400 mila euro di risorse da poter spendere per beni alimentari rappresentano non sicuramente una soluzione della problematica, sicuramente non rappresentano una situazione per cui va da sé che risolvano totalmente i problemi, però è sicuramente un aiuto concreto. Si parla di questi buoni che verranno erogati per il periodo natalizio, c'è anche questa collaborazione, questa sinergia con la Caritas? Sicuramente sì, per non lasciare indietro nessuno e per attivare soprattutto per quelle persone che non riescono ad usare il tablet o il telefono, comunque non hanno una stampante o non sanno scannerizzare qualcosa, ci siamo attivati subito con lo sportello che già era in essere in altra occasione, questa volta con la novità che anche i quartieri, alcuni quartieri saranno dotati di questo servizio per il modo che il cittadino non debba scomodarsi a venire qui in comune, quindi il quartiere avrà a disposizione questi operatori della Caritas e sarà lì a dare spiegazioni se qualcuno non capisce qualcosa nella domanda o comunque a riempire questi modelli.